Il benzone è uno dei pochi dolci modenesi. È una normalissima farina con aggiunta di uova e burro e nient'altro. Viene cotta pian pianino, mangiata, tagliata a fette e bagnata. I contadini la bagnavano nel vino nero, i signori la bagnavano in un vino filtrato o venda messa. I contadini la bagnavano nel vino.